Il videogiornale a Porto Empedocle tra crisi di sesto finanziario al comune e prospettive. Al ridosso del Natale le interviste. Irene Milisenda. Anche la città di Porto Empedocle si trova a vivere nell'ombra ed è una pesante caduta arrivata a causa di determinate situazioni. Vedi i tagli dei trasferimenti di Stato e Regione, lo sciopero dei netturbini, l'aumento delle tasse per i cittadini empedocline, il mancato pagamento degli stipendi e dipendenti e i precari. Tutti i problemi che hanno portato la nuova amministrazione pentastellata a dichiarare il dissesto finanziario. Tale soluzione un tempo permetteva prestiti a fondo perduto da parte dello Stato, che si accollava tutti i debiti dell'ente. Oggi non è più così e si tratta di un prestito che in circa 30 anni bisogna restituire. Pur tuttavia quella del dissesto appare per molti enti come la via principale da seguire. Al comune si sta aspettando l'arrivo dei commissari che si occuperanno di risanare il bilancio comunale. E nel frattempo la sindaca Ida Carmina sta cercando di mantenere la fiducia dell'agenda, rimanendo presente in città, spendendosi per il bene dei suoi cittadini. E in occasione delle feste natalizie l'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di volontariato locale hanno stilato un programma natalizio tra i mercatini di Babbo Natale, la corsa di go-kart, i momenti musicali, la mostra dei presepi nella torre di Carlo V ed iniziative di solidarietà culturale e religiose. Abbiamo elaborato un programma di eventi prevedendo iniziative di sport, di cultura, soprattutto di solidarietà, le tipiche espressioni natalizie, concerti, concerti per giovani e concerti di tipo classico come canti natalizi. Ci sono le mostre con il concorso per esempio dei presepi delle scuole, sugli arti e gli antichi mistieri, una mostra fotografica, continua la mostra di mariterra, radici nel mare. Insomma cerchiamo di animare questo nostro paese che ha bisogno appunto oltre che di denaro anche di anima. E questo è il momento giusto. Ci teniamo a sottolineare che il calendario del Natale in Pedoclino è totalmente a costo zero per l'amministrazione e questo è coerente con quello che abbiamo finora detto, ovvero che il dissesto è un punto di partenza, è un punto di rinascita di questa città, nonostante le grandi difficoltà la voglia è proprio quella di spingere in questa direzione perché le idee, la gente che si mette in discussione, in gioco non va di certo in dissesto. Quindi è un calendario che abbraccia la cultura, abbraccia lo sport, la solidarietà sociale. Ma nonostante l'impegno la gente fa ancora fatica a credere che si possa ritornare a vivere come prima. In paese le uniche parole che si riescono a sentire sono solo due, crisi e disoccupazione. Ma si vuole essere fiduciosi e sperare che tutto possa cambiare.